Ci troviamo nell'area festeggiamenti di Flambruzzo dove tutta la comunità si è stretta attorno ad Alex Meret, molto felice, molto emozionato di questa accoglienza, te l'aspettavi? Mi aspettavo ma non così tanta gente, sono veramente emozionato e felice di essere qua e di poter filmare qualche autonoma ai bambini e di stare con la mia gente che mi supporta sempre. Senti un po' la responsabilità di essere un esempio per tutti questi bimbi? Sicuramente, io cerco sempre di dare il mio meglio sia in campo che fuori, poi se sono un esempio per loro per me è un grande orgoglio e spero che crescano coltivando i loro sogni e spero che riescano anche loro ad arrivare ad alti livelli. Senti di questa esperienza all'europeo che ricordo, qual è il ricordo principale che ti porti a casa? Oggi abbiamo sentito le note dell'Inno d'Italia che immagino ti abbiano continuato ad emozionare. Sì, l'Inno è sempre una grandissima emozione, un momento particolare, tutto il percorso è stato bellissimo, ho fatto parte di un gruppo veramente bello non solo in campo ma anche fuori, eravamo come una famiglia e il gruppo ha fatto la differenza alla fine, siamo contentissimi di aver raggiunto questo traguardo. Ci avete creduto dal primo momento? Sì, anche se tanti non ci credevano, noi sapevamo che potevamo far bene, ovviamente pensavamo partita dopo partita ma man mano che andavamo avanti eravamo sempre più convinti, l'abbiamo dimostrato in campo e abbiamo ottenuto un risultato impensabile all'inizio forse. Senti, dopo che siete arrivati alla vittoria, qual è stata la prima persona che hai chiamato lì sul campo? Sì, ma è la mia famiglia ovviamente, non si sentiva niente, non si capiva niente, ho fatto solo vedere la medaglia e ci siamo sentiti con calma il giorno dopo. Adesso invece un po' di riposo? Sì, sì, adesso ancora una decina di giorni di riposo e poi si riparte per il ritiro. Grazie, grazie Alex Meret, lo lasciamo ai festeggiamenti, ai tanti bambini, alle tante persone che vogliono fare una foto con lui e farsi anche un autografo. Grazie ad Alex Meret, da Flambruz è tutto.